Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Mantenere una buona eubiosi intestinale, quindi una flora batterica intestinale in salute, garantisce un buono stato di salute a tutto l'organismo. Recentemente si è scoperto che il lactobacillus, soprattutto il lactobacillus fermentum, che si trova all'interno del nostro intestino, è in grado di produrre il glutatione. Il glutatione è il più potente antiossidante che l'atore di metalli pesanti e endogeno che noi abbiamo. Una carenza di glutatione può essere indotta ad esempio da un utilizzo cronico di farmaci, dall'entrata di xenobiotici, quali possono essere anche i metalli pesanti e tanto tanto altro. Cosa succede? Succede che nella carenza di glutatione abbiamo una problematica di stress ossidativo, quindi carenza di ossigeno, ma andiamo letteralmente in apnea le nostre cellule. Sintomi tipici possono essere quelli dell'acido lattico, dell'aumento degli acidi urici nel sangue e tanto tanto altro. La carenza di glutatione è collegata alla permeabilità intestinale e quindi se tutte le patologie autoimmuni sono collegate alla permeabilità intestinale, abbiamo visto che queste patologie autoimmuni sono collegate anche alla carenza di glutatione. E la carenza di glutatione ci porta ad accumulare facilmente metalli pesanti. Tra i più comuni eccessi di metalli pesanti abbiamo l'allergia al nickel, che si manifesta con problematiche a livello della pelle e problematiche a livello dei polmoni. E quindi mantenere un buon equilibrio intestinale riporterà in equilibrio anche il sistema del glutatione endogeno. Come si può mantenere un buon equilibrio intestinale? Beh, sicuramente mantenere una buona alimentazione a base di frutta, verdure, cereali integrali, legumi, frutta secca, perché questo diventa tutto un nutrimento per i batteri buoni. E poi anche la gestione dello stress è importante e anche muoversi, camminare almeno 40 minuti al giorno. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale YouTube. Ciao!